Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono ad Albareto, Albareto Trail Center. Sono in compagnia di un mio vecchio amico, un ragazzo che correva molto forte in Gravitalia, che è Stefano Mezzetta. Ciao a tutti! E niente, mi fa vedere questi trail e vi faccio due domande un po' per la storia di questo posto. Come sono nati questi trail? Sono nati per scherzo, quando io e i miei amici a 14 anni usavamo le mountain bike un po' a caso e poi pian piano abbiamo scoperto che si possono fare i salti, si possono fare tante cose divertenti con le bici e adesso abbiamo dei veri sentieri da mountain bike. È proprio figo quando si costruiscono sentieri per girarci, per allenarsi, per andare a fare le gare e poi adesso che c'è un po' questo boom della bici in giro per l'Italia, per il mondo, creare sentieri per far divertire anche gli altri. Infatti avete un servizio di navette adesso. Sì, siamo partiti anche col servizio shuttle, quindi è possibile girare sui nostri sentieri o salendo muscolarmente, come di tradizione, se no col servizio shuttle riusciamo a fare più discese. Cerchiamo di tenerli sempre puliti e quando abbiamo tempo magari facciamo anche qualche pezzo nuovo giusto per tenerci sempre aggiornati. E quanti trail ci sono qua? Principalmente sono due, una parte di freeride, diciamo più enduro, che si divide in PS1 e PS2 e poi c'è la parte di H dove ci sono un paio di piste da downhill con rocce e vari trick interessanti. Come vedrete adesso nel video ci sono trail veramente lunghi, questo qua, quanti minuti è questo? Questo 9 minuti fatta di fila è un buon passo, diciamo. Quindi davvero divertenti e vicino c'è anche una pump track. C'è una pump track tivissima presso l'area Taroli a Gotra, pump track velo solution, assolutamente da provare se si viene qua a girare in bici. Quindi dopo mi ci porti. Assolutamente. Dai. Dai. Ah che bello partire subito così a fresco, se chiedi mai fatti seguendo queste ferramettezze scatenato. Ah che bella partenza, ha freddo. Ma era un doppio anche quello? Figo. Ah che bella partire subito. Che terreno ragazzi, che figo. Chico. Ciao. Ah che bella partire subito. Ah che bella partire subito. Ok, qui ci sono due salti Sì, avevi ragione, quello di mezzo è il più bello di tutti Perché ti dà proprio il tempo giusto Ma perché? Ma perché manca l'atterraggio in questo Cioè è troppo alta la rampa rispetto all'atterraggio Invece quello a metà è fighissimo È vero che c'è un bel ritmo proprio, se fai il primo Sono i salti più grossi che ho fatto dopo Leo Gang A giugno Ok, dopo una prima discesa lunga come avete visto Adesso facciamo la di H Sì, Stemi ha detto che è un po' più bastardella questa In effetti Yeah Eh sì, in questo sentiero sarebbe stato figo avere la vicina di H Lungo Grazie a tutti 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 Mi è ripeto, sono andato dritto Comunque sì, è molto più scassato Però ha un suo flow, anche questo Grazie a tutti 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 Proprio figa questa serie di salti, quello in mezzo è il più bello di sicuro, con anche più atterraggio, più raccordato, mentre l'ultimo atterraggio un po' più alto, infatti si schiaccia un po', sono divertentissimi due salti prima per prendere velocità e due grossi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.